Di seguito, alcuni suggerimenti per l'utilizzo del filtro dell'aria LW110 di Boehrer. Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Estrarre il guscio superiore con l'unità di ventilazione, togliere le sicurezze per il trasporto dalla vaschetta e dall'unità di ventilazione e estrarre i dischi umidificanti sull'asta di fissaggio. Inserire nuovamente i dischi umidificanti in modo che il punto rosso sull'asta di fissaggio sia rivolto verso l'alto. Riempire la vaschetta solo con acqua di rubinetto fredda fino alla marcatura OPT. Inserire infine il guscio superiore con l'unità di ventilazione integrata sulla vaschetta. Posizionare l'umidificatore dell'aria su una base piana, solida e impermeabile. Collegare la spina a una presa di corrente. Accendere l'apparecchio. È possibile scegliere fra tre diverse velocità del ventilatore. Spegnere l'apparecchio dopo l'utilizzo. Vi auguriamo buon divertimento con il filtro dell'aria LW110 di Boehrer. Restate sani.